bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news di fortnite delle ultime 24 ore racchiuse in pochi minuti oramai ci stiamo avvicinando davvero tanto alla data dell'evento ieri mattina abbiamo visto tutti ufficialmente il timer nella pre lobby ma lo vedremo anche lo vediamo anche nella lobby in game che ci indica che la data ufficiale dell'evento è il primo dicembre alle ore 22 una data un po particolare un orario un po particolare ma nel video di oggi voglio spiegarvi alcune cose parlerò di qualcosa di prima dell'evento niente spoiler esagerati quindi non vi preoccupate non vi faccio vedere immagini dell'evento non abbiate paura vorrei dirvi alcune cose ma le vediamo nel video prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un post ufficiale che pubblica fortnite direttamente sulla sua pagina twitter dove invita tutti i giocatori che hanno comprato la ps5 ad attivare l'audio in 3d e to try the turning on 3d audio on your ps5 it's bananas quando dicono it's bananas per loro vuol dire è una figata no è uno slang come per noi appunto quello che ho appena detto quindi ragazzi mi raccomando controllate di aver attivato l'audio 3d nella vostra ps5 per avere un'esperienza di gioco molto più realistica andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ufficialmente arriva ovviamente il post dell'evento sempre nella pagina twitter ufficiale di fortnite the battle bus is loaded and ready to go ed infatti ieri abbiamo visto la terza fase del battle bus è sparito completamente il pallone aereo statico sono comparse le ali sui fianco this is our final stand to save all reality è la nostra ultima occasione per salvare tutta la realtà di the world of world arrives 12 1 2020 4 pm sappiamo che il nome dell'evento ufficiale in game è the world of words quindi il divoratore di mondi che non è altro appunto che l'aggettivo che viene dato al galactus l'immagine del battle bus nuovo ci fa capire come stiamo per assistere a qualcosa che segnerà realmente la storia di fortnite un evento mastodontico assurdo per il quale hanno investito denaro tempo anni anni di lavoro ragazzi qualcosa di incredibile e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva anche una notizia direttamente dalla dal sito ufficiale di fortnite dove dicono arriva galactus unisciti alla lotta nell'evento di fortnite il primo dicembre oh sbaglio c'è il divoratore di mondi all'orizzonti non è un buon segno era solo una questione di tempo galactus sta arrivando sull'isola e le sorti dell'intera realtà sono in bilico unisciti alla lotta finale contro galactus nell'evento finale della guerra per il nexus martedì primo dicembre ore 22 ora italiana con le sorti del mondo in bilico questo è un evento che non vuoi perdere per prepararti all'arrivo di galactus consigliamo di seguire i seguenti passaggi scarica l'ultimo update ovviamente aggiornare la patch 14.60 scarica house party con nuova integrazione di house party potrai utilizzare la chat video in diretta su fortnite arriva presto abbiamo adottato le misure necessarie perché il maggior numero di persone possa partecipare all'evento ma consigliamo comunque di accedere a fortnite almeno 60 minuti prima dall'inizio dell'evento le playlist dell'evento dovrebbe diventare accessibili accessibile 30 minuti prima dell'inizio quindi mi raccomando ragazzi entrate su fortnite almeno alle ore 20 20 e 30 perché se no rischiamo addirittura di non poter accedere al gioco e mi raccomando 30 minuti prima quindi verso le nove e mezza sarà disponibile la possibilità di entrare in game quindi fatelo e godiamoci insieme l'evento cominciamo a vedere invece qualche immagine un pochettino più sugosa ragazzi questa è la prima con tanto di video galactus is under map it will merge slowly ragazzi il galactus è sotto la mappa e lentamente sta emergendo voglio farvi vedere questo spezzone video perché ci fa capire benissimo quello che si è appena detto in realtà lentamente quando passeranno i giorni mentre passeranno questi giorni se noi andiamo nella pagina della pre lobby dove c'è il tavolo degli eroi vedremo come l'ologramma di galactus cambierà con questo replay potete farlo anche voi ragazzi se non avete niente da fare andate nella modalità replay vi muovete andando proprio sotto la mappa il più possibile una volta che avete più o meno raggiunto il centro della mappa guardate che cosa vi appare ancora qualche secondo per rendervi conto di quello che succederà o meglio sì che sta per succedere forse addirittura prima dell'evento sbam eccoci qua ragazzi il galactus come vedete è sotto la mappa ed emergerà non si sa bene quando ma piano piano lo vedremo salire una delle cose davvero molto curiose ed andiamo avanti perché nei file di gioco è stata trovata anche questa immagine che potrebbe essere in realtà un fotogramma di quello che sarà qualcosa dedicato all'evento forse come vedete una schiera di queen jet molti di più di quanti siamo abituati a vederne sta facendo si sta radunando c'è una delle skin questa è dovrebbe essere mystic se non ricordo male degli eroi marvel che o li sta chiamando o si sta preparando a gettarsi anche qua boh non sappiamo assolutamente dove collocare questa immagine ed ecco qua invece quello di cui vi parlavo prima quelle che saranno alcune delle immagini che vedremo nel tavolo degli eroi nella prelobby del galactus innanzitutto questa immagine è quella che vi ho fatto vedere poco fa nel nella modalità replay mentre questa invece è quella che ci sarà nel tavolo è davvero incredibile sicchia si capisce chiaramente come il galactus stia per uscire la rivediamo anche senza gli sfondi e guardate quando andiamo a dare un'occhiata cominceremo a vedere alcuni dettagli ad esempio dietro la faccia di iron man vedete che c'è uno delle corna del galactus sotto alla testa di wolverine ce n'è un'altra e poi ovviamente vicino al tavolo le due corna che escono e questa è un'altra immagine davvero molto curiosa niente di che quindi non vi spaventate più andremo avanti con i giorni e più il countdown si accorcerà e cambierà colore come vedete nell'immagine qua di fianco quando mancheranno cinque ore cinque minuti sarà così di colore giallo quando mancheranno invece due minuti e 40 secondi diventerà addirittura rosso insomma ragazzi tante cose stanno per capitare io cerco di dirvi il meno possibile ma farvi vedere qualche cosa per non rovinarvi non rovinarci ovviamente l'evento ma io vi ringrazio tanto per avere guardato questo video news mi raccomando non vi dimenticate di schiacciare il bottone del like forza ragazzi lasciate i like se volete anche un commento ma mandiamo anche questo video nei consigliati noi ci vediamo invece adesso alle 8 il live su twitch con il vintage ciao